La posizione dell'associazione Cova Contro, che si dice indignata dalle dichiarazioni del presidente Pittella sugli effetti dell'inquinamento su alimenti prodotti in Lucania. L'associazione cita studi di Agrobios. Tra il 2006 ed il 2010, i ricercatori, ricorda Cova Contro, hanno rilevato fenomeni di inquinamento in decine di alimenti prelevati nelle aree petrolizzate della regione, sottaciuti i pareri di non potabilità episodici per le acque del Pertusillo, la presenza di idrocarburi, microcistine e metalli pesanti nei pesci dell'invaso e quella di idrocarburi nel miele. Gli attivisti chiedono al presidente di individuare piuttosto delle aree interdette ad agricoltura e allevamento.